oggi parliamo della panton chair il simbolo praticamente di verner pantone il prodotto che tutti assolutamente nel mondo del design conoscono poi parliamo anche di altri prodotti però questo è sicuramente il simbolo del lavoro di verner pantone si tratta di una seduta molto particolare organica con una forma che segue la linea del corpo verner pantone non gli ha in realtà dato un nome viene chiamata così perché è legata appunto a questo designer poi in editing metto tutte le immagini così le potete vedere perfettamente è una seduta nata nel 1967 ma il designer ha lavorato su questo progetto da diversi anni fin dal 1960 quindi sette anni di progetti sperimentali per rendere questo modello unico ed incredibilmente resistente e funzionale ora sette anni io vi posso assicurare che ci vuole una pazienza infinita per progettare un prodotto solitamente un prodotto anche molto piccolo non so con una pre bottiglia ci vuole un anno per quel motivo oltre al progetto ci vuole il packaging ci vuole tutto quello che riguarda la comunicazione è un lavoro lungo una seduta sette anni per progettare la ci vuole tantissimo soprattutto se si tratta di un prodotto così rivoluzionario per quel motivo perché è un prodotto nato da un solo stampo ed è fatto in plastica e questo lo rende veramente il primo progetto realizzato in questo modo difficilissimo da realizzare pensate che è stato progettato dal 60 è entrato in produzione nel 67 ma come l'ha ideato verner pantone quindi l'esattamente il modo la forma in cui l'ha progettato diciamo che la vita di questo progetto è nato nel 1999 quindi prima la forma era quella ma c'erano una serie di modifiche progettuali per quale motivo perché non riusciva a essere così resistente quindi bisognava portare delle modifiche tecniche per riuscire appunto a tenerla in piedi il materiale il materiale come diceva una plastica è un polipropiline che poi è stato realizzato vabbè fuso in uno stampaggio di iniezione plastica la finitura è opaca e si può utilizzare anche per gli esterni ora ci sono comunque delle limitazioni perché i raggi UV tendono a rendere a rovinare questo prodotto quindi si può utilizzare all'esterno sicuramente ma bisogna prendere delle precauzioni anche il modo in cui viene pulito deve essere pulito con dei liquidi chimici non troppo aggressivi non deve contenere candeggina altrimenti va a fare reazione può rovinare la seduta quindi stiamo molto attenti anche a tutti questi piccoli aspetti come dicevo ha una forma scandalosamente sinuosa ed organica che rispecchia il periodo in cui il designer è vissuto ed ha progettato questa seduta la comodità di questa sedia è il risultato della combinazione tra struttura sbalzo del design è antropomorfo appunto è un materiale leggermente flessibile cosa significa leggermente flessibile se voi non vi siete mai seduti su una seduta del genere che cosa succede la base è fatta a forma di triangolo ok anche se è una forma molto particolare ma schematicamente è un triangolo quando voi vi sedete la seduta proprio è a sbalzo quindi dove mettete il sedere lavora solo sulla flessione e c'è appunto una leggera flessione ma non porta la seduta diciamo a rompersi si flette e rimane in quella posizione è molto interessante perché se è la prima volta che fate questo esercizio che vi sedete avrete la sensazione di volare indietro in realtà è estremamente resistente un'altra caratteristica che è sovrapponibile molte sedute in plastica lo sono ecco in questo caso è sovrapponibile fino a un tot numero di sedute dopodiché non si può sovrapporre perché qual è motivo di solito una seduta si sovrappone una sopra l'altra anche questa solo che sovrapponendole sopra so madonna le parole oggi solo che sovrapponendole una sopra l'altra fa questo movimento quindi dopo tot sedute crollano ok quindi lì c'è un limite ovviamente la pantone chair ha ricevuto numerosi riconoscimenti in tutto il mondo vincendo tantissimi premi di design proprio per la sua forma e ho detto che è un progetto nato nel 60 è arrivato sul mercato nel 1967 quindi siamo in un periodo in cui il movimento hippie il pop la pop art e il mondo della plastica era in continua evoluzione la plastica soprattutto era una scoperta incredibile c'era già da decenni ma quell'evoluzione della plastica aveva portato appunto il pop art ok non è che aveva portato la pop art però è stato un elemento fondamentale di questo mondo lui riuscì a mettere il colore il colore è stato un elemento fondamentale per questo designer come dicevo prima è stata progettata per seguire la forma del corpo umano quando appunto si siede diciamo che inizialmente non aveva alcuna certezza che quella forma sarebbe stata realmente elegante ok quindi inizialmente non era così certo come detto prima è stato un incredibile lavoro di sforzo del designer in collaborazione con i progettisti di vitra l'azienda per la quale ha collaborato per la realizzazione di questo capolavoro inizialmente era stata realizzata in vetro resina e si ispirava al lavoro sulla piegatura freddo del legno realizzata dalla coppia charcery in ma aveva però enormi problemi strutturali perché appunto il vetro resina non è legno il designer voleva ricavarlo da un unico pezzo stampato ad iniezione plastica e alla fine sono riusciti a realizzare un unico pezzo partendo da uno stampo in acciaio l'unico accorgimento che è stato fatto inizialmente è costituito da queste piccole linee diciamo ragnatele che servono a rendere più stabile la seduta in maniera tale da evitare che possa flettersi troppo e di conseguenza magari rompersi un problema che con il passare degli anni è stato risolto aumentando lo spessore in punti strategici quindi quelle forme non ci sono più oggi pensate che in quel punto posteriore quindi nascosto è esattamente da dove viene iniettata la plastica all'interno dello stampo ecco una cosa che non ho specificato appunto che si tratta di uno stampo di iniezione plastica dove la plastica appunto viene iniettata all'interno di uno stampo formato da due conchiglie che riproducono in negativo l'oggetto stesso la plastica entra allo stato liquido e rimane fino a quando non si è completamente solidificata una volta ottenuto questo cambio di stato lo stampo si apre e otteniamo il nostro oggetto la forma dello stampo sarà leggermente più grande rispetto all'oggetto stesso che dobbiamo realizzare a causa del ritiro elastico del materiale cosa significa ritiro elastico del materiale significa che quando la plastica passa dallo stato liquido allo stato solido tende a rimpicciolirsi quindi bisogna progettare lo stampo in media più grande del 3 per cento rispetto all'oggetto originale per quale motivo dico in media del 3 per cento perché dipende dal tipo di plastica che utilizziamo questo è un progetto che vale anche per i metalli quando progettiamo uno stampo otteniamo sempre in considerazione il materiale che stiamo andando a stampare appunto l'enorme vantaggio della plastica come dicevo prima è il colore quindi il cambio di variabili che ci possono essere ci sono se non sbaglio cinque tipi di colori che possono essere utilizzati quindi utilizzando lo stesso stampo possiamo dare al cliente cinque tipi diversi di colore pensate che è già presente all'interno dei progetti visione che pantone presentò quando bayern decise di realizzare il progetto visione tutto qui se vi è piaciuto questo video lasciate un like oppure iscrivetevi al mio canale se volete continuare a seguire altri video tutto qui alla prossima ciao